Buonasera a tutti dalla Tg regionale per sordi. È stato ritrovato il corpo privo di vita della signora scomparsa ieri a Castelnuovo, Val di Cecina, in provincia di Pisa. È stato ritrovato a circa 5 chilometri di distanza dall'evento, in prossimità di un piccolo ponte dove c'è la stazione di rilevamento idrometrico della regione toscana. Il corpo di Maria Grazia Milani, originale della provincia di Milano ma residente a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, è stato individuato dopo che il livello delle acque del torrente è andato progressivamente abbassandosi, una volta che sono terminate le abbondanti piogge delle scorse ore. Le ricerche della donna erano state sospese ieri sera a causa del buio e riprese stamani all'alba. Incidente mortale questa notte in Mugello dove un giovane di 26 anni è morto e altri due sono rimasti feriti seriamente dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita contro un albero. L'incidente si è verificato poco prima delle una in Viale Kennedy nel comune di Scarperia e San Piero in provincia di Firenze nei pressi di Pianvallico. Incidente mortale sul lavoro nel porto di Livorno dove ha perso la vita un operaio 51enne a bordo di una nave della compagnia Mobi attraccata alla Calata Carrara. È accaduto oggi verso le 10.30 secondo una prima ricostruzione della polizia di frontiera intervenuta sul posto l'uomo originario di Tore del Greco, provincia di Napoli, dipendente Mobi, stava effettuando delle manovre alla guida di un muletto nel garage della nave quando si è mossa parte della struttura di un ponte elevatore che lo ha colpito alla testa. Un supermarket della droga nei boschi tra Siena e Grosseto gestito da una banda di marocchini che vivevano in condizioni estreme nella fitta vegetazione e qui spacciavano fino a 50 dosi al giorno tra eroina, cocaina, hashish e marihuana per un giro d'affari da oltre 1500 euro al giorno. È quanto scoperto dal nucleo investigativo dei carabinieri di Siena con la cosiddetta operazione richiamo della foresta che ha portato all'arresto di quattro uomini tra i 32 e 36 anni. A far scattare le indagini alcune segnalazioni di cacciatori e cercatori di funghi. Sulla tramvia a Firenze, ferma al capolinea Pieretto l'aeroporto, ha iniziato a offendere e minacciare il conducente brandendo un coccio di bottiglia. Per questo ieri un clochar di 47 anni, originario della provincia di Latina, è stato denunciato dai carabinieri per reati di minacce, ha incaricato di pubblico servizio e interruzione di pubblico servizio. Il senza tetto era in evidente stato di alterazione dovuto probabilmente all'abuso di alcol. Alla scena ha assistito una passeggera, la sola presente sul tram. Molto spaventata, la donna è stata protetta dal conducente fino all'arrivo dei carabinieri che poi sono riusciti a calmare l'uomo e a farlo scendere. È un 21enne originario degli Stati Uniti, è stato soccorso la notte scorsa dai sanitari del 118 in via Verdi nel centro di Firenze per una ferita al volto. Il ragazzo si è poi allontanato dal pronto soccorso dove era stato portato rifiutando le cure mediche. Per questo la polizia non ha potuto interrogarlo. Si trovava con un gruppo di connazionali quando sarebbe rimasto coinvolto in una rissa con almeno altri due giovani, probabilmente italiani. E ha tentato di suicidarsi gettandosi sotto un treno sotto gli occhi degli agenti della Polfer che però lo hanno bloccato. È accaduto ieri sera intorno alle 22 alla stazione di Viareggio. Gli agenti hanno notato un uomo, un trentenne di origine romena che si incamminava verso la fine del terzo marciapiede della stazione che appariva assente. Alla partenza di un treno regionale ha cercato di raggiungere il binario per cercare di gettarsi sotto il treno ma è stato bloccato a fatica dagli agenti fino all'arrivo dell'automedica. Sciopero della fame da parte di alcuni esponenti della comunità kurda in Toscana per chiedere la fine dell'isolamento in carcere del leader del PKK kurdo Abdullah Ocalan. L'annuncio è avvenuto oggi nel corso di un presidio organizzato in piazza Santa Maria Novella. Confronto a Firenze durante l'inaugurazione del murale dedicato allo storico partigiano fiorentino Silvano Sarti, morto qualche mese fa tra il sindaco Nardella e alcuni giovani sul corteo in programma domani 25 aprile a Firenze, alternativo a quello istituzionale che si chiuderà in piazza Signoria. Lo stesso luogo dove vorrebbero arrivare anche i giovani, molti legati anche da alcuni centri sociali che hanno organizzato una contramanifestazione con partenza alle 9.30 da piazza San Lorenzo. La questura, secondo quanto riferito dai giovani, avrebbe vietato il corteo e secondo quanto appreso invece dalla questura sarebbe stato dato l'ok alla manifestazione che però dovrebbe terminare in una piazza diversa da quella della manifestazione ufficiale. E siamo arrivati alle previsioni del tempo per domani in Toscana, initialmente poco nuvoloso, salvo locali foschie durante la mattina e addensamenti sulle zone di nord-ovest. Tendenza però a un aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, con nubi anche piuttosto consistenti e associate a brevi piogge sul centro-nord della regione. I venti deboli, mari poco mossi e mossi a nord di Gorgona, temperature minime in calo, massime in ulteriore aumento, con punte fino a 24 gradi nelle pianure interne. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.